in questo video volevo mostrarvi un altro gruppo di automobiline majorette serie 200 che ho acquistato durante questi ultimi anni presso i mercatini delle pulci di milano ed intorni sono tutte automobiline degli anni 80 90 quindi insomma diciamo abbastanza vintage tutte giocate quindi nessuna è in condizioni impeccabili molte sono in condizioni piuttosto danneggiate giocate rovinate eccetera eccetera e proprio per questo il prezzo di acquisto è stato sempre basso attorno a un euro spesso anche meno di un euro e l'idea è quella di acquistare le majorette per poi ristrutturarle e farmi la mia collezione personale low cost di majorette serie 200 cominciamo con questa rassegna di tre pontiac sono tre modelli che sono simili ma con delle differenze almeno stando al sito della fandom della majorette ufficialmente la pontiac dovrebbe essere il numero 248 però poi credo che sia stata rieditata come numero 293 in effetti sulla base sono presenti entrambi i numeri la blu dovrebbe essere la transam e in particolare dovrebbe essere la versione del 1989 la verde dovrebbe essere la pontiac fireboard turbo del 1986 mentre invece l'ultima la bianca con quel motore un po improbabile è la fireboard pro stock e in particolare questa dovrebbe essere la versione prodotta tra l'89 e il 1992 sono delle macchinine diciamo hanno delle caratteristiche un po particolari perché le ruote sono decisamente di grosse dimensioni sicuramente consentivano alle macchinine di correre più velocemente però da un punto di vista estetico non sono un granché la verde e la blu hanno il cofano che si apre mentre invece la pro stock ha questo motore enorme con questo turbo compressore esagerato nella parte anteriore non sono macchinine molto solide tutte in in ottimo indiscreto stato sotto diversi punti di vista qua appunto ci sono i due numeri 248 e 293 ecco un'altra macchina americana questa è la ford thunderbird la numero 217 che è stata prodotta tra il 1986 e il 1995 e questa con queste decal con scritto gambler dovrebbe essere la versione prodotta tra il 1991 e il 1992 anche in questo caso abbiamo il cofano che si apre la macchina ha delle proporzioni migliori rispetto alla Pontiac che abbiamo visto prima anche le ruote sono un po più credibili è danneggiato un po il gancio però la macchina è ancora in discrete condizioni qua abbiamo invece un modellino di Alfa Romeo Giulietta la numero 271 prodotta tra il 1985 e il 1987 questa è l'ultima versione con la livrea della polizia italiana ed è del 1987 direi che la macchina a parte questi improbabili sticker con il commissario Basettoni che c'entra ben poco con la polizia italiana per il resto è una macchina che a me piace molto perché con le proporzioni e i dettagli sono assolutamente ottimi per una macchina che ha scala 1,55 quindi una macchinina la struttura e trasparenti e tutto solido dovrebbero aprirsi anche le portiere che si aprono bene nonostante sia una Majorette serie 200 degli anni 80 è una delle poche macchine che aveva la base in plastica però una plastica solida quindi decisamente una bella macchinina dal mio punto di vista questa invece è la Ford Sierra numero 272 prodotta tra il 1984 e il 1990 questa arancione è la versione del 1987 anche questa è una bella macchinina con diversi dettagli si vede ancora qua lo stemma della Ford c'è la targa le luci sono in plastica la macchina non ha tante parti in plastica quindi è sicuramente molto solida e anche questa è un bel un bel modellino questa è la mercedes 300 te numero 250 prodotta dal 1990 al 2001 e questa qua questa azzurra è la versione del 1991 la macchina è in discrete condizioni la struttura buona ovviamente la vernice sia un parte screpolata ci sono diversi graffi però non è messa benissimo però niente di grave il problema come tutte le maggiorette mercedes è che anche in questo caso è saltato via lo stemmino della mercedes diciamo mi sto organizzando per cercare o di riprodurlo o di asportarlo ad altre macchinine più recenti e per poi incollarlo sopra in un eventuale restauro però è un'idea per il futuro vedremo questa è una macchina interessante è la Renault Super Sank credo che si dica così GT Turbo numero 205 prodotta tra il 1987 e il 2001 onestamente questa con queste decal racing team io non ho trovato non sono riuscito a determinare in quale anno è stata rilasciata la macchina non è male bella è fatta bene una scala 1,51 quindi una scala abbastanza grande non ha grosse pecche l'unico grosso problema è qua il paraurti anteriore di plastica e come spesso capita qua si vede bene come spesso capita per i pezzi in plastica delle maggiorette giocando quantomeno si rovina questo proprio è saltato via un pezzo e vediamo se si riesce sarebbe una macchinina secondo me interessante da restaurare bisogna un attimo cercare di capire come ricostruire questa parte magari con del polistirene in qualche modo insomma vedremo vedremo che il risultato si riesce ad ottenere veniamo alle ultime gli ultimi tre modelli come al solito ho lasciato in fondo quelle che io ritengo essere quelle più quelle che a me piacciono di più o comunque quelle un po più più vecchie un po più vintage questo è un modellino che a me piace molto è della porsche 924 la numero 247 qui andiamo un po più indietro perché è stata prodotta tra il 1978 e il 1985 questa è una delle ultime versioni prodotta tra l'82 e l'85 a parte la vernice la macchina è in buone condizioni le ruote sono le sospensioni sono perfette questa parte in plastica che abbastanza delicata si apre ancora bene è soltanto un po graffiata ma niente che non si possa correggere la base è assolutamente integra l'unico problema è sempre il solito è sempre legato alla plastica qual paraurti anche in questo caso in plastica non so se si viene questo non è particolarmente rovinato però un pochettino lo è ed è difficile da correggere però penso che non si vede benissimo ma credo che si possa utilizzare così com'è senza ritocchi che sarebbe difficile fare questo è un altro modellino che mi piace molto è il pompier però la versione arport è la numero 258 prodotta tra il 1979 e il 1985 io non sono riuscito a capire dal sito della Phantom esattamente di che anno sia questo modello con queste ruote con il cannone grigio gli interni bianchi i trasparenti credo che sia dall'inizio degli anni 80 però non è sicuramente il primo modellino rilasciato sul mercato però non so esattamente di che anno sia però le condizioni sono ottime ci sono danni soltanto sulla vernice non sono sicuro che manchi una una parte qua del del cannone ma del cannone sparacqua ma credo che si possa in ogni caso correggere ammesso che manchi il resto tutto perfetto le ruote le parti in plastica i trasparenti la base assolutamente buona assolutamente in buone condizioni questo modellino un bel modellino si può anche restaurare per quanto riguarda la vernice in modo molto semplice ultimo modello di oggi la la citroen diane raid numero 231 qui siamo una macchinina abbiamo una macchinina prodotta tra il 1976 e il 1983 questa rossa è la versione del 1982 sono due modellini due macchinina dello stesso dello stesso modello e diciamo che l'idea in questo caso è di due farne una perché diciamo le parti si finiscono un po per compensarsi questa in particolare ha una base che assolutamente integra a questa griglia anteriore che è conservata piuttosto bene e ha il roll bar con la ruota con la ruota con la ruota di scorta la carrozzeria invece abbastanza danneggiata perché poi tutta piegata e raddrizzarla non è mai non è mai semplice quest'altra invece ha una base che non è un granché qua è tutta piegata e manca una luce anteriore questa parte questa griglia anteriore andrebbe riparata perché qua è rotta però questo è un problema relativo però l'altra ce l'ha giusta quindi va bene il roll bar manca della ruota posteriore però ha il tettuccio in plastica che qua è mancante la carrozzeria anche questa è un po piegata ma decisamente meno la differenza è che cercare di raddrizzare questo si rischia si rischia di rompere quest'asta e quindi poi bisogna ricostruirlo questa dovrebbe essere più semplice da raddrizzare ma vedremo ciao